vi presento il saccoletto della ferrino lightech 1002 è un saccappello in piuma 90 10 ed è destinato a quelle persone che richiedono massime prestazioni con ingombri e pesi minimi la parte inferiore del saccoletto ha una forma 3d completamente apribile con cerniera ciò permette di aumentare il comfort durante l'utilizzo e la reazione in caso di utilizzo ad alte temperature per ridurre la dispersione di calore le cuciture esterne ed interne dell'imbottitura sono sfalsate il sistema one touch permette l'apertura e la chiusura del cappuccio con una sola mano per ridurre la dispersione di calore dall'interno del saccoletto la cerniera di chiusura è dotata al suo interno di coprilampo imbottita